Musica Ben trovati a Sport News, risultato di prestigio per l'Accademy Volley Lube Nel weekend appena trascorso la formazione bianco-rossa Under 15 ha trionfato al trofeo interregionale Sistema X di Falconara strappando il pass per la fase finale del Memorial Micael Brugnara in Trentino che si terrà sabato 2 e domenica 3 marzo Inserita nel gruppo B la Cucine Lube Civitanova ha portato a termine il cammino nella Kermess con un percorso netto facendo valere la sua pallavolo anche in semifinale contro Virtus la Volley Fano e firmando il successo nella resa dei conti con Castelferretti Il 23 dicembre scorso ha segnato un'impresa indelebile nella storia del volo in paramotore Il pilota spagnolo Roman Morillas e il suo assistente solcano i cieli di Granada e Spagna raggiungendo un nuovo record mondiale di altitudine per il volo biposto con decollo a piedi L'atmosfera è cretica mentre il duo supera ogni aspettativa conquistando i 7186 metri sulla maestosa Sierra Nevada Tutto parla spagnolo ma tracciare l'impresa è un motore marchigiano il Cosmos 300 di un'azienda con sede a Montecosaro Affrontando temperature gelide di meno 30 gradi e la sfida della riduzione di pressione atmosferica in quota il motore ha dimostrato di essere straordinario mantenendo prestazioni costanti oltre ogni previsione Sono state numerose le iniziative che l'Unione Sportiva Aclia-PS e l'amministrazione di Pioraco hanno realizzato nel corso delle 2023 Grazie al sostegno della regione anche con il comune di Sefro sono state organizzate attività di nordic walking, scacchi e dama ma anche di fit walking con l'attraversamento di un percorso cittadino con tante ricchezze da ammirare Il polo museale, le chiese di Pioraco ed il centro storico hanno fatto da cornice naturale ad un'iniziativa che ha permesso di promuovere l'attività fisica ma ha fatto conoscere meglio le ricchezze della città In questo 2024 sono in programma altre iniziative organizzate sempre in collaborazione E con quest'ultima notizia termina anche questa edizione odierna del Tg Grazie come sempre per averci seguito e vi auguriamo una buona serata Grazie a tutti